San Valentino sulle nevi di Sarnano, allegria, C-Club Senigallia Ehi amico Bolli Ehi ma devi farlo più in basso qua Promozione famiglie Dov'è Claudio? Davide dov'è? Davide dov'è Davide? Davide dov'è Davide? Davide! Andiamo! Il Cugio, la Maddalena, la Cappannina, la Maddalena C-Club Senigallia Ecco un concorrente numero 51 C-Club Senigallia